I malumori stavano crescendo, l'incidente che ha scatenato le ultime proteste hanno indotto la giunta a Ghinelli questa mattina a sospendere il periodo di riduzione delle ore di accensione della pubblica illuminazione previste dalla delibera approvata lo scorso 3 novembre. Considerando il carattere di sperimentazione di tale provvedimento, dice la nota, raccolte segnalazioni di criticità da parte di cittadini e imprese è valutato che con l'approssimarsi delle festività natrizie sono previsti un elevato afflusso turistico, un conseguente incremento della circolazione anche nelle ore notturne. In analogia a quanto fatto da altre realtà del nostro paese come il comune di Ravenna è stato quindi deciso di ripristinare i regolari orari di accensione e spegnimento dell'intera illuminazione pubblica. A fronte quindi delle valutazioni conseguenti al monitoraggio di questa fase di sperimentazione restano invariati solo i provvedimenti, prosegue la nota, che riguardano gli uffici comunali ovvero il ricorso allo smart working nella giornata del velerdì. Il comune si riserva, conclude la nota, in ogni caso di rivalutare nel corso dell'anno eventuali ulteriori misure di risparmio energetico.